Essendo un televisore portatile, aveva la necessità di nascondere i pezzi più importanti, che magari erano l'antenna e il filo. Questi non sono piedini, ma sono agganci per poter posizionare in maniera corretta. Vedete? Questo è difficile con una mano, ma si incastra così. Quindi questa non dà fastidio, non si rompe. E questo poi poteva venire arrotolato qui e fissato qua. Bellissimo! Ed ecco così che il cavo veniva nascosto ed anche l'antenna e poteva essere trasportato facilmente. In che maniera? Così. Il cavo non si vede, ci sta maniglia, si prende e via. E si portava dove si voleva.